A2 Care Anticellulite Professional, trattamento intensivo professionale da svolgere direttamente a casa, che si avvale di formato convenienza 750 ml, che vi permetterà di svolgere innumerevoli trattamenti per migliorare l'aspetto della vostra pelle e per prevenire la formazione di nuova cellulite. La prima fase del trattamento è data dal Cell Control Scrub, è una fase di esfoliazione che permette la pelle di essere rigenerata. Va massaggiato dal basso verso l'alto e senza risciacquo si applica sullo scrub l'impacco drain. L'impacco va steso su tutto il corpo, escludendo il seno, va possibilmente occluso e poi dopo una cosa di 15-20 minuti va risciacquato anche in doccia. Il trattamento intensivo professionale da svolgere a casa è un trattamento che può darvi ottimi risultati e sicuramente un ottimo prezzo convenienza.